Una mentalità vincente, che è un altro elemento fondamentale quando noi dobbiamo guidare. E l'altro elemento importante è avere noi come leader una mentalità vincente. Che significa questo? Perché questa è una bella frase, ma che significa in concreto? Significa, prima di tutto, se noi vogliamo dirigere altre persone, noi dobbiamo essere ottimisti. La seconda cosa è che per avere la mentalità vincente, io ho pensato a questo una volta anche in un corso che un allenatore mi ha detto ma lei che ha vinto tanto, come si fa ad avere la mentalità vincente? Perché tutti vogliono avere la mentalità vincente. Chi è che non vuole avere la mentalità vincente? Io mi ricordo che lì per lì le ho detto quello che pensavo, che le ho detto, ma secondo me la mentalità vincente si acquisisce vincendo. Cioè io non conosco una squadra che perde spesso, che abbia mentalità vincente. Mai conosciuta. No, la mentalità vincente è solo che ha problemi tecnici per cui perde sempre. Le squadre che perdono spesso non hanno mentalità vincente, bisogna vincere. Allora è un cane che si morde la coda perché noi perdiamo, quindi hanno chiamato me perché le squadre perde, arrivo io, dico dobbiamo avere la mentalità vincente, ma questi perdono, quindi non hanno la mentalità vincente. Come faccio a rompere questo? Come faccio? Devo vincere. Allora la prima cosa che devo vincere, devo vincere contro i miei difetti o i miei limiti. E devo parlare con ciascuno e proporle una cosa, una, né due, né tre, né dieci. Una. Perché torniamo all'inizio. Devono avere un feedback positivo subito. Per avere la mentalità vincente bisogna vincere. La prima vittoria è contro alcuni dei nostri difetti, alcuni dei nostri limiti e già ci sentiamo che stiamo vincendo. Voi dovete pensare immediatamente. Ok, difficoltà nel mio lavoro. Adesso che difficoltà ho? Sempre scrivere. Elenco di difficoltà. Quell'elenco di difficoltà mettetele in ordine di importanza. Come squadra, come gruppo, io dico qual è il problema maggiore? Questo, bene. Questo ci occuperemo tutti. Questa difficoltà, che è la principale, mettiamo tutti i canoni lì. Perché se metto i canoni dappertutto, ognuno spara una volta. Se io metto tutti i canoni su una cosa, le spariamo dieci volte e le risolviamo più velocemente. E le altre dopo? E le altre dopo. Però questa la risolviamo subito e quindi anche lì tutti hanno la sensazione che stanno vincendo. Tutti hanno la sensazione che le cose stanno cambiando. Subito stanno cambiando. Quindi, perché hanno corretto un difetto, perché hanno superato un limite, perché hanno superato una difficoltà, perché le prendiamo una per una, già questo cambiamento è in atto. E quindi, senza aver battuto nessuno, noi stiamo vincendo e abbiamo rotto quel circolo vizioso che per avere mentalità vincente devo vincere e io risulta che perdo.